Vogliamo festeggiare la giornata internazionale dell'hamburger proponendo un panino per noi per eccellenza che è il Kikas Il Kikas è il panino con hamburger, pollo, cheddar, bacon e con la particolarità di avere all'interno anche le onion rings quindi vogliamo dare ai nostri ospiti e ai nostri clienti un panino sostanzioso per poter ricominciare in piena energia e alla grande quindi noi siamo qui pronti ad accogliere i clienti già dal 18 ultimo scorso dove abbiamo aperto per la prima volta le porte dei locali alla nostra clientela che fortunatamente ci ha apprezzato, ci apprezza e non ci ha mai dimenticato anche in questo periodo di chiusura, di serrata totale abbiamo avuto la fortuna di lavorare in delivery e non per ultimo in asporto diciamo che questo ci ha permesso anche di allargare un po' quello che è il bacino di utenza della nostra già consolidata clientela e speriamo appunto di avere nuovi ospiti nei nostri locali